Un video reportage realizzato dagli studenti per diffondere la cultura della sicurezza stradale al liceo Don Lorenzo Milani di San Giovanni a Teduccio interviene anche il sindaco Luigi De Magistris per la presentazione del progetto Stupefacente la vita che mira a sensibilizzare i giovani delle scuole del territorio prossimi al conseguimento della patente sul tema della guida responsabile Bisogna partire dai giovani perché è fondamentale comprendere e divulgare i comportamenti corretti quando si sta per strada con una macchina, con una motocicletta, con una bici a piedi, uno skateboard, con un pattino con qualsiasi mezzo di locomozione anche perché i ragazzi della nostra città utilizzano mezzi vari quindi è bene essere consapevoli per la propria salute e per la salute degli altri che ogni giorno incrociamo nella nostra vita La campagna è promossa dal Comune e finanziata dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri per informare sui rischi che derivano dal consumo di alcol e sostanze stupefacenti sempre più spesso causa di incidenti stradali Negli ultimi quattro anni oltre 4.000 guidatori sono stati controllati dalla Polizia Municipale di Napoli di questi circa 900 sono risultati positivi al test dell'alcol un centinaio alle droghe C'è una stretta correlazione proprio degli incidenti più gravi tra l'uso di sostanze alcoliche e l'uso di sostanze stupefacenti quando ci troviamo appunto in presenza di incidenti mortali oppure con conseguenze gravi Il progetto stupefacente La Vita ha coinvolto anche personale delle Forze dell'Ordine, dell'Università Federico II e della Croce Rossa Italiana fondamentale il contributo dell'Unità Operativa Radiomobile e Infortunistica Stradale della Polizia Locale che a titolo gratuito ha svolto attività di prevenzione attraverso lezioni sulla segnaletica stradale e sull'educazione al rispetto della legge Unitamente ai ragazzi cerchiamo di ritornare sulle strade per continuare la campagna di prevenzione e fondamentalmente che si affianca a quella che la normale attività che noi facciamo nei fine settimana nelle zone della movida cittadina fondamentalmente che è quella della repressione di questo fenomeno che purtroppo ha sempre confini molto più vasti Aver stipulato un accordo di rete, un protocollo di intesa con il comando di Polizia Locale Municipale è una ricchezza ulteriore, una risorsa aggiunta che ha permesso ai ragazzi di percorrere quei curricoli formativi di educazione alla legalità e alla sicurezza in un modo più arricchente La proiezione del videoreportage realizzato dagli studenti del liceo Don Lorenzo Milani è stata accompagnata dall'esibizione dei ragazzi del laboratorio musicale ed ha visto ospiti Marcello Colasurdo e Sasà Mendoza